Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Fe Voice Senior si appresta a vivere la sua terza stagione sempre condotta, ovviamente, da Antonella Clerici. La conduttrice di Legnano conosce già da qualche giorno la cattiva notizia, una perdita pesante per il suo programma. Di chi si tratta, i programmi di successo si a tripla mandata i loro protagonisti. Volti che diventano talmente familiari all'interno di quel contesto che non li si può immaginare altrove. Eppure, nella televisione di oggi, i cambiamenti sono all'ordine del giorno, dove si possono osservare quasi dei girotondi dei personaggi più in voga del momento, che passano, con estrema disinvoltura, da un programma ad un altro. Ma ve ne sono alcuni che, anche in una sola stagione, riescono ad accaparrarsi simpatie da ogni dove e ad assicurare al programma che li vede protagonisti un successo immediato. E, questo il caso di un noto personaggio che è entrato nella seconda edizione del programma musicale condotto da Antonella Clerici, The Voice Senior. Una sola stagione e sembrava che non ne sarebbe più uscita. Ma non è stato così. The Voice Senior, appuntamento nel 2023, alcuni si erano spaventati alla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione autunnale non vedendo comparire il talent musicale di Antonella Clerici, The Voice Senior. A rendere il tutto ancora più angoscioso la forzata assenza della stessa conduttrice di Legnano, bloccata a casa dalla positività al Covid-19. Nessun problema, l'assenza del programma era dovuta soltanto ad una questione di tempi. Il palinsesto infatti riguardava la programmazione televisiva durante il periodo autunnale, arrivando fino alla fine dell'anno. The Voice Senior inizierà invece la sua terza stagione a gennaio del 2023. Una nuova stagione che partirà con una grande novità che non è stata certo gradita da Antonella Clerici. Un pezzo importante della trasmissione ha salutato anzitempo, dopo soltanto una stagione. Ma chi è che ha lasciato il programma e con chi sarà sostituito? Un addio doloroso, negli otto appuntamenti previsti per il prossimo anno non ci sarà più lei a ricoprire il ruolo di coach. Orietta Berti aveva sostituito, all'inizio della seconda stagione, la coppia formata da Albano e Jasmine Carrisi. Solo un anno e via, ma non soltanto da The Voice Senior, ma dalla Rai tutta. Chi prenderà il suo posto? Da tempo si parla di un possibile ritorno di Albano Carrisi, ma come ci informa ultime notizie flash. Com, Antonella Clerici sta facendo anche altre valutazioni. Accanto agli tre intoccabili coach, ovvero Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e Clementino, la conduttrice di Legnano vuole un altro grande nome. Chiodo scaccia chiodo, per un grande nome che va via, eccone un altro che arriva. E probabilmente Antonella Clerici già lo conosce. Per questo e nella sua splendida casa di Arquata scrivi assolutamente tranquilla, in attesa che passi il virus. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.